Ciao, prima di iniziare con il video-ploopers, volevo solo dirvi un paio di cose. Il mio dici sarà un video classico, invece giovedì arriverà lo speciale, verrà il lunedì 28. E se vi piacciono questi contenuti extra così, vi invito a guardare il mio secondo canale, Chiara Brisa, mi lascio il link qui sotto in descrizione. Buon divertimento e fatemi, vi prego, le frasi con i meme, tipo mettete il minuto e dite io quando, perché mi fanno scassare, vi prego, fatelo. Allora, scendi. Questo è bellittimo, si sa. Bellittimo. E poi voglio offrierti, maledetto, sono Sara. Buona, buona, buona. Ho liberato la pelva, se non si calmerà mai. Ciao Loki, si, si. Io come posso vivere così, vi rendete conto? Oddio, che fastidio. No, ti odio. Ma che zanzano di merda. Ogni volta che qualcuno... 40 gradi umidi e io stondisco. Fine. Bene. Dai pensieri superflui, dai pensieri superi, 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 superi. Erami, una parola, tutta la vita, ci siamo unì. Che sclerotica. Che sclerotica. Che nervo è questo scotch che non tiene. Ok, abbiamo liberato la pelva. Se non si calmerà mai. Ciao Loki, si, si. Loki, ma... Grazie di aver visto questo... Quanto casino fai! Non ho parole! Un attimo, per favore. Ami? Un anzi. Un anzi. Un anzi. Un anzi. Un anzi. Grazie a tutti.